Allora, ci troviamo a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. Esattamente siamo nella piazza Kastimom, il centro religioso ufficiale della Repubblica, situato a 2 km a 9 del circo, è stato oggetto di un progetto di ricostruzione ultimato nel 2010. Qui si trova il museo, biblioteca, dove è costruito il Corano di Osama, che ritirà dal VII secolo, il ritorno del più antico del mondo. Quindi abbiamo il museo, biblioteca, la moschea, questa è la piazza Kastimom e la medressa. Facciamo proprio la piazza Kastimom, la piazza più importante di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. Facciamo un giro a 360 gradi. Guardate, da quella parte, questa è la moschea, ha tutte le finestre aperte, non ci fanno entrare perché lì si deve pregare, ma le finestre aperte era caldo, c'è un caldo incredibile qui, caldo umido. Piazza Kastimom, guardate qui su i minaretti, sono alti 54 metri. Questa è l'ultima città che visito in questo tour in Uzbekistan, capitale Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. Ok, a Sibiri, saluti a tutti, alla prossima vacanza. Io vado a vedere il Corano.